come stai? c'è la maionese? vieni 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 si deve agitarlo un po' però ciao tutto bene? si stiamo cenando te lo riguardi? si ma io non posso non mangiare niente mi faccio del menù io da lunedì? io mangio due volte al giorno io mangio due volte al giorno da lunedì? a cena 100 grammi di pollo con verdure a pranzo 100 grammi di pollo e riso stiamo in diretta? perché? eh? ehi che mi chiamo? tigiana depurativa tigiana depurativa tigiana depurativa salutami tempeh tempeh ti salutano è la live ah la live non sanno belli raga belli raga che ha fatto? ma questi li vanno vedere a te mica a me io li saluto ma li vedono a me si mettono paura a me li vedono a te ciao 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 io ho capito che tutti i follower di tutti gli schermi di tutti gli schermi del pianeta lui lo posso fare sei una stella penso ce l'hanno con te laureno sei una stella penso ce l'hanno con te io sono una stella no catella è una stella caduta sono una stella che ha fatto il botto io sono una stella che è cascata di fascia regà ciao ciao laura vuoi dire? Andrea tu c'è una nicchia per me tu hai una notizia per te ah e quindi è per me mamma mia ah ok bello boxy va tutto bene va tutto bene mi sono comprato la seconda xbox regà così ho più memoria posso scaricare più giochi me li scarico Warzone chiedono se fai la live stasera si regà la fa chi è che mi ha chiesto prima ve lo chiedo ti fai la macchina finita l'avvento dovrei andare a stipare con lui verso le 10 perché tu hai portato qua a casa non dormi qua la compagno io no io non me la vado a dormire ma se c'è fa qualcuno che esce dopo no dormi qua no? c'è il letto di Patrizio non mi guardo i miei ho più letto stai su di vostro stiamo andando a casa mia ne ho ormai steve che dormo in giro ovunque tieni nesi nesi raga 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 tra un po' mentre dormo faccio pure la diretta infatti si chiedono quando dormi perché spegne il telefono raga sta più diretta del Berlusca Manco Barbara D'Urso sta così online Ciao ragazzi come stiamo? Tutto bene? Xbox, serie X Eh boh si c'ho la serie S E poi mi sono comprato pure la serie X Ma io vengo da Playstation però No perché io ero prima su Xbox Io ho sempre giocato con la Play Però l'anno scorso quando sono usciti i console 9 Non c'era la Play e ho preso l'Xbox Te dica regà te dica la verità Con Game Pass e tutto quanto non c'ha quasi senso Ritornare a Sony Però c'ho quella piccoletta Oggi sono andato per comprare una Playstation 5 Che volevo regalare a un ragazzetto per beneficenza Mi hanno detto se la ordini adesso Mi hanno detto d'arriva agosto-settembre Io dico regà agosto-settembre sarà uscita la 6 Allora intanto mi sono comprato un'altra Xbox per me E fra 12 anni quando tutto si risiste Se sono disponibile per Playstation Forse me la rifaccio ma non c'ha senso Io da quando sono qua non gioco più Prima ero spiegattato di Proof Duty Io ecco regà possiamo fare tutti i gruppi One of Duty Ma fa anche io Io ho pure Aurora in mura Andre il manager ce l'ha già tua Playstation 5 Ma non ci hanno messo il Wi-Fi Adesso mi riconosco Ah eh dai le cacche Dai regà poi facciamo tutte private su Call of Duty Se portiamo pure gli Akelin che mi vuole portarmi su Fortnite Invece io porterò lei su Call of Duty Nooo Eh fanno tutte le partite private regà Ciao Tempe, voglio dire Andrea se stasera fa live Sì sì Mary ha detto te sì Sono parecchi giochi sì Allora vi faccio vedere quando sono a casa Eh dai come no Dai regà quando siamo tutti pronti per le console Pure Nelson fanno tutti i privati Fanno tutte le partite private D'accordo D'accordo pure te Ma siete dei pipponi Ma siete dei pipponi Ciao raga Vi accolto il culo Come state? Gioca contro Andrea Chi è? Melle Sto mangiando Andrea Se tu gioco una settimana ci riprendo la mano non mi batte nessuno Lui gioca col mouse e la tastiera Semplice E allora non vuoi? Eh muo questo Se riesco a fargli comprare sta cazzo di Xbox E questo gioca pure da domani Subito Eh no anche perché Worson è gratis Perché Worson devo scaricare subito Con l'optionis e poi devo comprare Però il Worson viene di Worson è gratis Subito Davvero? No dove stai lì? No Cazzata Stai nel piazzino Eh regà Ti ho mangiato Io lo tiro alla holandese Anche quando No Me l'ha portato Nelson Così a caso Ciao Ergio c'hai un neo Dove? Un neo C'hai un neo Un neo Un neo Non doveva dormire qua Un neo Un neo Un neo Un neo Tutto Per rifiutare le patate No Guarda io Non è stavolta Sai qual è il mio problema? Perché io quando mi incazzo E' un evento più scopatico Seriamente C'è la mano Non mi metterà un cazzo di questo È giusto E cosa fai? 10 secondi ho tempo Se hai ragione Dentro quei 10 secondi La vita della persona Che ci fa Se non ragione No io Passo le bottiglie Non c'è 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 Guardate in realtà Cos'è che lanci? Le bottiglie No io posso le mani Alessandro La prima cosa che faccio Prendo la bottiglia Mi raccoglie Mi raccoglie Mi raccoglie Mi raccoglie Mi raccoglie Su Call of Duty Ero a RDS Su Warzone Su Warzone Su Warzone Su Warzone Io Cree Abbiamo 10 secondi Se entro quei 10 secondi Ci vanno arrabbiare Su Warzone No non c'è Aurora in casa Eh sì Grazie Dobbiamo comprarci Trambi la flaccia Così Giochiamo di nuovo Non la prendo la flaccia Mi fa spesso Seguire Aurora No tengo la 4 Mi porto la 4 A casa mia Mi compro una Perché Perché Appena Appena Datemi Una buona motivazione Una vera E reale motivazione A seconda 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 Dai ma perché Me lo devi rubare Cioè Dopo ce l'ho Allora Allora Adesso Vi racconto Una cosa Oh Che dici Già non so Quello che io Vuoi dire Del pesce rosso Sì Sì Dai racconta Non ne ho idea A chi Stiamo parlando di Call of Duty Povero Prima stavamo parlando di Call of Duty comunque E tu pensa male Vabbè Comunque Vi spiego Oggi Siamo andate a A prendere delle caramelle Raga vedi un attimo Quali caccia Oggi Usa il gatto Dove è il gatto Quindi Aspetta Non riesco a spiegare Mi riserve dopo No è vuoto No Devo bere Mena mia Dai Ma è tuo Allora Allora Ti chiedo scusa Vai Comunque Stavamo da prendere le caramelle Usiamo e se volevo un pesce rosso Tranquilla Chi è che è più forte di te? Di fianco C'era uno zoro Chi è che è più forte di te? Chi è che è più forte di te? Chi è che è più forte di te? Non so Un maxi Un maxi Non mi ricordo Vabbè Un grammo E li chiediamo di Del pesce rosso Non ho detto dell'oro Ma io gli faccio Ma Menni di pesce No Wow E lei E lei E lei Ma Siamo rimasti Mezz'ora così Frate E io E io Di sinistro Di sinistro Di sinistro non mi batte nessuno Mi batte solo Ali di sinistro Abbiamo citato un altro negozio Che lo vediamo Io ho finito Ocho E lo vediamo Non passi l'acqua. No! No, 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 no. No, no, no. Oddio no, vabbè, è un cugnone. Mi passi l'acqua. Non lo so, questo hamburger non posso poter sottomare. Ci sono stati i poti. Sì, ma guarda il nezzolo è lontanissimo, rega, non vale così. Bro, devi stare vicino, così sei io. Ma io sto in diretta! No! Ma poi lui era lungo, cioè, lungo, rega, fai una fatica assurda. Avresti vinto così. Avresti vinto così. No, 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 no. Aurora che costa deve avere un hamburger, guarda che non fai di corale. No, ragazzi, non fai di hamburger. Guarda che ti spingi tutto, con tutto l'altro. Sì, lo so che io non vado di sotto e fanno sempre in live. Poi non mi fa cambiare il gusto. Capriere. Abbraccio di Ferri. Buon viaggio. Perché non è solo... C'è un tavolo doppio. No. Spontateci. Assolutamente. Brillante, buon. L'America c'è un 16 anni che paste tutti. Tempesta! Sai chi c'è il live? Noemi! Ho visto sempre in Sirina, non so, ho messo prima quando mi ha passato una live... Ah, che fa bravississima! No, no, ho visto che sta qua. Oh, assaggia! Alex, ti fai leggere i miei fagi da Tempesta? Eh, rega, ma... No, ma poi non si mette bene, cioè, purtroppo sta chiuso. Come sono? Noemi è! Tempesta, secondo me. No, è troppo buono, no, è troppo buono. Voglio grigliare. Eh, non riesci a girare. Sì, ma guarda che... Sì, scappi la parte. Vero, vero? Mamma mia! Tu comunque ti sei scappato dall'allenamento. Qua non cresce più. La mia! Questo devono l'uomo si è inventata la Dugger. Ah, sì? Hai rinnovato. Tempesta è il numero uno al 100%. Dimmi! Bon. Bon, sì. Grande e buono! Sì! Raga, non ce la faccio. Raga, verrò anche io a fare la mia spagnia. A RDS. Sì! Sì! Raga! Posso raccontare, ehm... Posso raccontare le cose che sono successi? Eh, con quello che mi danno. Come faccio? Ah! Ciao! Oh, ciao, Mugna! Grande, Mugna! Ip! Già, manco se mi sforzo riesco, rega! Allora, Mugna! Allora, Mugna sta a dire che manco di essere sforza ci riesce a arrivare a livello lavorativo. Ale! Ale! Nanda! Lo so, lo so. Eh, sì, ma... Lo so, regà, eh, lo so. Cioè, non è... Lo sappiamo, lo sappiamo, insomma, lo so. Io non ho fatto questo maggiore proprio a me. No, vabbè, io non so. Se sta a mettere patatine e invece... Oh, ma ho un'idea! Tipo a latte con i biscotti, no? Mmmmm... Eee... Vuoi far visto? Mi prendi un altro? Eh? Eh? Prima prendi... Eh, fiii, eh dai, fiii, fiii! Fiii! Eh? Ragà, l'avete visto il video d'Aurora che fa pugilato oggi? Cioè, voglio di... Avete visto che, avete visto che il livello... Si, sei! Borsi, prima o poi giocheremo insieme a me... Sì, per forza, per te. guarda ho visto una cosa che è mancanza di rispetto che ti è fissuto? guarda veramente, basta che ha fatto? si, che ha combinato? si, si che ha combinato? voi che l'avete sentito sicuramente è troppo bella la tua firma grande grazie rega ci sta Ergie che sta cercando di comunicare Ergie e Fanny che discutono dei problemi di politica roba del genere non ha capito l'argomento ma credo stiano parlando di politica sta impazzendo Ergie anche se dovevamo giocare io e te insieme ad Asia a Fortnite Fortnite, ma tu sei capace di dire si, cioè solo io sono la piffa del gruppo cioè è mia perché mi devi offendere Ergie, basta no basta Ergie Ergie rega sta cercando di far cambiare lato politico al cane io non vi dico quale lato è Ergie e quale è il cane ma uno sta cercando di convincere l'altro a cambiare lato politico ha vinto lui hai visto che gli stavano? Maria lo sa dove capite la bambina è buono è buono è andata di sotto da su tempo ti ha ordinato il vostro libro non vedo l'ora che arrivi sono Franci no pure noi rica noi abbiamo la copia nostra però ci siamo ordinati anche noi perché ridi? cosa è ridi? io ho letto tutto il pdf hai visto dietro ci sto solamente io? e per chi? vero? ah no come ti ho visto una dietro sì che lo piace, l'altro ce lo piace rica andate a vedere la storia d'aurora di oggi del pugilato rica rica fa una cifra di... ehm ti conviene Che vuole fare? Non vuole le sigarie Oh raga sta andando bene Oh raga Ciao bellissime Allora raga Raga lui è lui è Murel Eh si Raga per tirare su metri per chiamare le sette persone Ah ma voi ricordate nel corto che faceva pure lui video con me Ma io ero che è stato il tuo atleta In pochissimo ho imparato troppo Tu mi hai accannato un pacchio Ma io non ti hai accannato io voglio tornare Sei tu che non mi vuoi più Ah sono fatte quelle patate Sono povera che mi confi Mi hai detto Raga ricordate segnatevi tutto quello che sta a dire Sì raga lasciate stare Segnatevi tutto quello che dice Ho visto la storia è troppo brava E' brava raga E' brava brava Tempeste nazionale Sei raccorto pure il boss Boss dei boss qua da noi Oh bello Federico Che povera è tua Guarda quest'arte Ma tutto bene? Sono io qua Tutto bene Mo sei mostri vendiati da mura Siii E' successo un macello il Sardas No ehi Se ci fossi io Appoggiato al boss vero Io in realtà sono uno dei soci Hai visto questo video? Vieni qua Eh fai vedere a lui Che carina Andai a live No dai guardalo Ho capito Mi dovrei riprendere il tipore da Simone Guarda che pigne Guarda che montante Guarda che montante Il rumore è triplo di quello che sentite da Instagram Quando vedete le storie Quando mettiamo la pezza Ci senti il rumore Bello e pesante Lenzo 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 Guardate attenti Guardate Quando venite fuori dalla villa E chiedegli le foto Con calma Sempre un po' di vista Perché si potrebbe pure intoppata Al momento all'altro Potrebbe fare ducappa a varvolo così Chiolino 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 Ah scusa frate nooo Ah si È arrivato il momento No Vabbè la linea Con la testa Si 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 vede la Buon mattino Ah No Nel senso Però non dicono niente Ok E poi faccio Anzi Registro spesso a Malentino Per quello Ah invece si Scherzo Chi sta Hai mai scomodo No no San Valentino Comunque Perfetto Per vedere se ci arrivo per il video Allora E lunedì Eh E lunedì prossimo Non c'ho paura Non c'ho paura Non c'ho paura E c'ho paura E c'ho paura Va bene raga Adesso vi passo Maria Rosania E io Ciao Ciao Vabbè Io ho appena iniziato a mangiare Come sapete Mi sono fatto il panino con Le patate Poi O È buonissimo Ma Tu non mangi o mangi Io non mangi più sto abituato adesso mi stavo a riposare un attimo perché ce l'ho ancora voglia di mangiare poi era buonissimo Mary mi sta facendo venire fame è proprio la mia intenzione farci venire fame in questo momento ci ho messo anche la maionese non fa niente se ne sono le quelle perché la maionese fa uscire bolle è grossa però fa bene, è un bel culo si? ma già l'avete avuto il cello con la chat? qui c'è la live mi avete salutato in diretta? mi avete salutato in diretta? è salutato? hai detto che ti riconosce? va tirata a casa? si che faccio così? un'uscita contro il caderno ma che vuol dire? è quello che vorresti te? vuole concare chi? tu? la scommessa è tua domani penso alla prossima no però te dico quello che ha detto prima ma vuoi esprimare per sempre la stardust? e lei fa magari e hai l'altro nome? no la prepariamo la prepariamo 3-4 giorni in decine la a me io stavo a lui non lo voglio lo odio aspetta mi odio o mi vuoi? ma lei comunque odio è comunque un sentimento e c'è una linea sottile e anche i più forti dell'amore beh è una linea sottilissima in distretta compra ma segna 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 sì è diritto guarda 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 prima lo ho ammazzato ragazzi comunque ora finisco di mangiare Sì, vuoi salutare? Io Sto scherzando Io ho stato loro Dove giochiamo a Cahut? Ah voglio giocare a Cahut Giovedì Che è Cahut? Dove fai le domande Tipo questo Ah loro rispondono? Sì, è l'enunica Ah ho capito quello che ci facevano a fare a scuola Prova se l'hiamo fatta Ma era finita la cuoca Cosa? Ah Feliz Io non gioco a Fortnite Perché no? Gioca a GTA Che è giocato oggi? Fatto il quiz No Però me lo sono fatta modificare quella volta Vai Mary Ti rilascio la live La tua live Con la maionese e mezzo Ma Mary La maionese non fa bene Sì Al culo sì Sì Ma non posso far con me? Per favore Infatti io voglio Sto zitto Commenta Allora resta Con me Allora lo voglio sapere Comunque Mi sono scordato Quella cosa lì Allora io l'ho detto Quale? Quella cosa della live Stacca un po' Se ci mangiamo il pace Sì No Vi voglio bene Lui ha detto di staccare Ci vediamo nelle mie live è meglio Grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.